Coronavirus rallenta la pandemia in Veneto così come anche in provincia di Belluno e in generale sul territorio si respira un clima di maggior sollievo. Abbiamo ricevuto oggi il rapporto regionale che riporta un'incidenza settimanale nella nostra provincia inferiore a 5 per 100.000 abitanti. Molto molto bene, a livello nazionale viaggiamo sui 15, quindi la nostra incidenza settimanale è circa un terzo di quella nazionale. Per ora quindi la situazione dal punto di vista epidemiologico è buona. La guardia però non va mai abbassata. C'è preoccupazione internazionale, nazionale e ovviamente anche locale sull'arrivo di possibili varianti ad alta contagiosità. Noi per ora non abbiamo evidenza specifica di circolazione di variante delta nel nostro territorio, ma stiamo intensificando come prescritto le attività di sequenziamento e chiaramente se dovesse arrivare una variante delta o altre a maggiore contagiosità prenderemo le misure necessarie. Continua nel frattempo l'importante impegno sul fronte della campagna vaccinale anti-covid. Oltre 175.000 sono le dosi finora somministrate in Uls Dolomiti. Prosegue regolarmente. Abbiamo circa 14.000 persone in prenotazione. Non appena noi riceviamo forniture di vaccino adeguate apriamo stabilmente posti. L'azienda sanitaria è impegnata inoltre, secondo le raccomandazioni nazionali e regionali, al massimo recupero delle persone over 60 non ancora vaccinate. Per favorire la definitiva adesione degli indecisi, circa 8.000, sono state recapitate delle lettere invito con un appuntamento preciso. Un capitolo apposito è dedicato poi al personale sanitario non ancora vaccinato. Con decreto legge 44 del 1 aprile è stato introdotto l'obbligo vaccinale per il personale sanitario. Il decreto è stato convertito in legge. Noi abbiamo interessato in una prima battuta 380 nostri dipendenti invitati. Il risultato è stato buono. Oltre 200 si sono già vaccinati. Ne rimangono circa 160 che sono stati raggiunti da una lettera invito formale. Io conto che molti di essi vengano ad eseguire la vaccinazione e inizino il percorso vaccinale. Per coloro che non lo dovessero iniziare, come è noto, c'è un percorso di sanzioni e di provvedimenti importanti. Speriamo che queste si applichino a nessuno dei nostri colleghi. Cinque giorni di tempo stabiliti dall'azienda sanitaria per mettersi in regola.